e buongiorno buongiorno a tutti ragazzi buongiorno ragazzi ciao tanti auguri di buona pasqua tanti auguri ragazzi tanti auguri a tutti voi e a tutte le vostre famiglie con la speranza che passiate una pasqua in compagnia in felicità e soprattutto esatto con tanta tanta gioia volevamo ragazzi farvi questo video speciale per augurarvi come abbiamo fatto del resto come abbiamo fatto a natale quando ci sono le feste sapete che noi vi mandiamo sugli auguri esatto ragazzi quindi questi sono i nostri auguri di cuore per voi per le vostre famiglie di una buona e felice pasqua buona pasqua anche a te amore mio dammi un beso buona pasqua a ti tolgo il rossetto mi hanno regalato le uova che cosa avete trovato nelle uova ragazzi perché se non lo sapete noi abbiamo una tradizione che è quella giustamente di pasqua come sempre come ogni anno io regalo e lei regala a me un ovetto di pasqua quest'anno ragazzi il mio uovo è quello dei minios quindi questo è per te amore mio e io l'ho regalato solo che il mio è più bello ma perché devi dire che è più bello che non è vero scusami lei mi ha regalato l'ovetto di sonic quindi apriremo ragazzi con voi le due ovette prima aprilo prima tu amore mio aprilo prima tu che bello che questo uovo di sonic porca dico la porca dico la porca lo aprirò fra pochissimo mi ha dato il mio cutter del lavoro vediamo se riesce a non tagliarsi un dito aspetta e aspetta aspetta voi intanto ragazzi scriveteci qua sotto quello che avete trovato nell'uovo di pasqua se l'avete già aperto perché pensi non l'avete ancora aperto ah già è vero forse lo aprono dopo mangiato molti ragazzi vediamo se la fami ce la fa ragazzi ce la fa ce la fa attenzione fai su sullo scartamento sullo scartamento che lo vogliamo vedere un po tutti lo vogliamo vedere l'uovo classico della frinzer possiamo fare pubblicità con sopra i minios che sono i personaggi che vi piacciono ma è giusto aspetta aprilo più alto scuola devi farla sociale aprilo davanti a tutti però senza rotta fortuna senza romperlo lo sapevo che andrà a finire così lo sapevo vediamo cosa trova dentro la famina attenzione attenzione o cogiuda voglio vedere ma devi mostrarlo e ancora non l'ho diretta fuori guarda che roba guarda che roba ma che hai perso i pezzi va che hai perso i pezzi ma questo vada solo vada solo amo e che adesso devi montare guardate taradada the explicable me yeah the explicable me come fai a montarlo senza istruzioni non è che ci vuole il giro che devi montare devi mettere il pezzo lì quello stai montando ci quelli sono giusti momento momento che doveva 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 torni qua torni qua per favore torni qua vediamo pochettino cosa c'era sopra poi ci monti il tipo con la barca no devi montarci i remi i remi i remi metta questo remo per favore eccoci monti l'altro remo perfetto perfetto fagli vedere ai ragazzi che cosa ma che figata ragazzi che figata il come si chiama il gru si chiama gru il tipo dei minions fagli vedere posso prendere il mio adesso se non lo apro anche io ragazzi lasciamo la conduzione a pomino voi voi poi non è bravo a condurre allora ragazzi cosa trova dentro nel mio fantastico nuovo perché come cioccolato che ho regalato di solito di regalo quello di super mario vero che hanno scorso mi sembra che io la maschera dei minio non lo romperei oh ma si rompe vengo via i pezzi non l'ho aperto bene scusami eccolo qua beh sai che ci siamo raga ok ho capito come devo fare allora la carta te la regalo proviamo a non rompere proviamo a non rompere l'opera dagli un morso all'uovo così neanche quello che cacchio che pasqua che pasqua scronk il mio più piccolino però di regalo tieni il ciochiz ho un pescino che porta bene allora ho trovato sonic sopra una vasca da bagno un attimo che riesco bene ma lascia stare le mie sorprese deve sempre mettere le mani deve mettere allora questo è a queste sonic boom figo e questo ragazzi è sonic c'è le rotelle e che cosa c'è sotto aspetta che si apre questo no non sia sì che si apre no non si apre non lo voglio rompere ragazzi ah c'è la frizione eccolo raga vediamo se lo mette a fuoco la webcam ho trovato un sonic con le rotelle lo terremo vicino a tutta la collezione dei suoni di super mario dei videogiochi vintage beh ragazzi direi che per oggi questo video augurio può finire qua noi vi ringraziamo davvero tantissimo un abbraccio grande un bacio grande ragazzi noi ci vediamo prestissimo ciao ragazzi buona pasqua ciao